Domani a Milano c'è la manifestazione People, prima le persone, per dire no al razzismo. Sala si aspetta in piazza 100.000 persone. Lei si sente di mandare un messaggio? L'ho detto anche pubblicamente quando è venuto Sala. Noi sosteniamo questo tipo di manifestazioni contro il razzismo, contro le discriminazioni, contro la xenofobia. Sarà molto bello se domani ci dovessero essere 100.000 persone per le strade di Milano. Queste sono le immagini che vogliamo e su questa strada si lavora insieme per costruire un'Italia più coesa che valorizza tutte le autonomie, certo non le autonomie differenziate.